Quella di oggi è una giornata sicuramente importante con questa visita a Stellantis, questo convegno, questa tavola rotonda per parlare di mobilità, ma lei nel suo intervento diceva che bisogna riflettere e ragionare su questa transizione in atto. È quello che abbiamo fatto insieme al Governo nazionale, finalmente anche l'Europa sta cominciando a rivedere certe ubriacature ideologiche che non fanno i conti con la realtà dei fatti e che rischiano di consegnare peraltro la industria automobilistica e non soltanto a potenze estere e altri mercati dove oltretutto dell'economia circolare, del rispetto dell'ambiente, del rispetto dei lavoratori e della loro sicurezza non fanno certo una priorità. Quindi quello che invochiamo è riaprire la discussione ripristinando il principio della neutralità tecnologica, non si può obbligare l'intera industria ad andare tutta verso una sola direzione che al momento è quella dell'elettrico, tecnologia che peraltro non vede oggi l'Europa ai vertici, ci ritroviamo in deficit in debito di tecnologie e di materie prima rispetto alla Cina e gli Stati Uniti dell'America solo per fare due esempi di maggiore concorrenza. Bisogna riadeguare i tempi e i modi della transizione alla capacità di innovazione e di assorbimento dell'industria di questi cambiamenti per evitare di perdere decine di migliaia di posti di lavoro e di creare un dramma sociale perché dobbiamo arrivare vivi all'obiettivo della neutralità climatica e del mondo decarbonizzato. D'altro canto, come diceva anche lei prima, questo resta comunque Stellantis un vanto anche abruzzese chiaramente. L'Abruzzo è oggi la prima regione in Italia nella produzione di veicoli, quindi nell'industria metalmeccanica siamo leader non soltanto per la presenza di Stellantis, anche per quella di Honda, oltre che di tutto l'indotto e la filiera comprese anche importanti multinazionali come Wilkington e Denso. Questo fa dell'Abruzzo una capofila di questo discorso e il rapporto con il ministro Urso nel tavolo dell'automotive che è stato costituito a Via Veneto al Ministero dell'Industria lo testimonia. Il tema dei veicoli commerciali, dei furgoni leggeri è entrato a pieno titolo nella trattativa che il governo ha condotto con Stellantis e che sta portando al buon risultato di vincolare gli incentivi e gli aiuti che il governo italiano destina all'industria dell'automobile alla ricaduta sul territorio, compreso l'Abruzzo che gioca un ruolo da protagonista su questo tavolo. Grazie.